Grazie a tutti. Di Paolo Portoghesi, io ho cercato la sua biografia, non vi nascondo che è un signore di cui conosco un po' l'attività, le opere, ma leggendo la sua biografia sono rimasto sinteticamente. A 22 anni ha cominciato a scrivere e studiare architettura, anche se diciamo inizialmente pareva che la sua vocazione fosse altrove. Combatte a tutto campo contro l'amnesia che ha dato alla modernità l'illusione di aver alzerato la storia, e quindi adesso vediamo come si pone con quanto detto dal professor De Michelis. E rischia a suo parere di portarla oggi verso il naufragio dell'irrazionalismo. Salto velocemente, professore di letteratura italiana e pare incredibile, presso la facoltà di architettura dell'Università Alghistudi di Roma, La Sapienza, dove si era laureato. Dal 67 al 77 insegna nella facoltà di architettura del Politecnico di Milano, di cui è preside dal 68 al 76. Dal 1995 al 2007 è stato professore di progettazione presso la facoltà di architettura Valle Giulia della Sapienza, dove oggi è titolare del corso di geoarchitettura. Non visto qui a raccontare tutte le opere di cui artefice, artefice, private e pubbliche in Italia e in moltissimi paesi del mondo. Alla fine del 2006 è stato inaugurato il quartiere latino di Treviso, che tutti conosciamo, restaurato, restauro dell'area dismessa, ecco ospedale Santa Maria di Battuti, come sede dell'Università di Treviso e quartiere residenziale. Opre sue, dicevo, si trovano ormai in ogni parte del mondo. Nel 79 viene eletto direttore del settore architettura delle Biennale di Venezia, nello stesso anno dà incarico ad Aldo Rossi, io ricordo, di costruire il teatro del mondo su un atante ormeggiato nel bacino di San Marco, che poi veleggerà verso la Dalmazia. Mi fermo qui perché il professor Portoghesi, diciamo già con la sua presenza, ci onora. Lo ringrazio di essere venuto. A lui un incarico non facile. Il bello tra paesaggio e architettura. Professore, io sono socio da anni del FAI, mi è arrivata una lettera di sollecito perché mi ero dimenticato di rinnovare l'adesione quest'anno, e la lettera comincia così. È mai capitato, egregio signor Lorenzon, di viaggiare? Il FAI, per chi non lo conosce, è il Fondo Ambiente Italiano, che si batte per la salvaguardia e dell'ambiente, del paesaggio italiano, nonché della nostra cultura artistica. Le è mai capitato di viaggiare al nord o al sud Italia e stupirsi per la bellezza del nostro paesaggio? A me succede spesso, mi dice l'estensore della lettera del Presidente del FAI. Ci sono volte in cui rivedo luoghi che già conosco con occhi nuovi, capisco perché gli stranieri ci invidiano tanta bellezza. E così sento che nel pezzo di paesaggio è anche il mio, di mio figlio, e domani sarà del figlio di mio figlio. È un valore collettivo che ci unisce, un bene comune che ci identifica come persone e cittadini di un meraviglioso paese. È un patrimonio naturalistico, artistico e culturale che va però tutelato per ognuno di noi e preservato per le generazioni future. E lei che ne pensa? Inizio citando Dimitri Karamazov. La bellezza è una cosa terribile, paurosa, perché è indecifrabile. Perché Dio non ci ha dato che enigmi. Qui tutte le contraddizioni coesistono. È qui che Satana lotta con Dio. E il loro campo di battaglia è il cuore degli uomini. Questa valutazione della bellezza come una battaglia è probabilmente molto vicina a quello che è la situazione attuale dell'umanità. Molto bene De Michelis ha tracciato la storia della modernità come un azzeramento della tradizione. Ecco, però io vorrei ricordargli che accanto a questo movimento, a questo tentativo di distruggere, in un certo senso, quello che l'uomo ha costruito in tanti secoli, nella modernità c'è un filone diverso. Un filone invece che vuole, come dire, prima di tutto assorbire quello che viene dalla tradizione e poi modificarla dall'interno, secondo una logica che esclude la tabula rasa, la distruzione. Io faccio sempre un esempio ai miei studenti, Le Corbusier. Le Corbusier è certamente il maestro della modernità, l'intellettuale europeo che più ha contribuito a modificare sostanzialmente il carattere della disciplina dell'architettura. Eppure Le Corbusier, quando è stato accusato di essere un futurista, ha detto, no, io sono affezionato all'oggi e l'unica mia competenza è il passato. In effetti, se noi andiamo a vedere i tacquini di viaggio di Le Corbusier, ci accorgiamo che prima di esplodere con questa sostanziale novità e astrazione dell'architettura, Le Corbusier si è sentito in dovere di andare in giro per il Mediterraneo e di capire cosa c'era nella tradizione che poteva ancora entrare nell'orizzonte della modernità. Così pure potremmo dire che nella tradizione, cioè nell'arte del passato, ci sono momenti straordinari di consapevolezza del fatto che l'arte non è soltanto culto del bello, non è soltanto ricerca dell'astrazione, ma è anche ricerca della verità, anche quando questa verità è stridente. Ecco, Rembrandt è ammirato per questa sua straordinaria capacità di rappresentare la luce, ma forse il suo quadro più affascinante rappresenta un bue squartato. Sicuramente un bue squartato non è una cosa bella e non andremo sicuramente a verificare nel bue squartato se le membra di questo povero animale sono congruenti con l'idea di bellezza che ci ha trasmesso Platone, sia pure non volendo. Ecco, io credo quindi che non possiamo stabilire una linea netta di demarcazione tra modernità e, diciamo, tradizione. È vero, la modernità nel suo aspetto più deciso, più anticonformista, l'ha negata in modo totale, così come, direi, ha negato perfino il pensiero. Pensate a Dada, per esempio. Dada propone addirittura di ritornare alle condizioni del bambino appena nato, che naturalmente lo si può interpretare in molti modi, ma in fondo questo ritorno alle origini è stato uno dei motivi ricorrenti, anche se altrettanto forte è stato il motivo di trarre dal passato la forza per cambiarlo, per cambiarlo secondo un indirizzo. E io credo che la modernità in questo senso sia molto meglio della postmodernità. Cioè, in fondo, la postmodernità ha seguito della modernità soltanto quella idea che appunto così bene ha messo in chiaro De Michelis. La distruzione del passato, la decostruzione, la riduzione, per esempio, dell'architettura, ha un'autoreferenzialità, cioè ha un racconto del modo in cui l'opera architettonica si è costruita gradualmente attraverso il pensiero. L'unico scopo dell'opera diventa quello di trasmettere a chi la guarda questa storia che la riguarda, questa storia compositiva e scompositiva nello stesso tempo. Ma veniamo al tema di fondo, architettura e paesaggio. Ecco, il paesaggio l'ha costruito una società diversa della nostra. Esistono paesaggi urbani di carattere moderno, ma non esistono paesaggi in cui il rapporto con la natura dia luogo a una qualità estetica affascinante. Naturalmente il paesaggio richiede molto tempo, ma soprattutto richiede una partecipazione dell'architetto, del costruttore basata sull'umiltà, sulla ripetizione. Pensate alla bellezza del paesaggio nella provincia di Treviso, visto che siamo in argomento. Se voi guardate gli elementi che caratterizzano il paesaggio differiscono di poco l'uno dall'altro. Ci sono degli elementi che si ripetono sistematicamente. Un tempo erano i cassoni, poi sono diventate queste case contadine in cui c'era bisogno di mettere il fieno ad essiccare, quindi c'erano delle condizioni da curare per ottenere un risultato valido per la vita delle persone che abitavano nel paesaggio. Ebbene, il paesaggio veneto è fatto di questa ripetizione di elementi tipologici che ovviamente variano anche nel tempo, dalla presenza poi insieme a queste affermazioni della società contadina di invece la presa di possesso da parte della nobiltà e della borghesia veneta del territorio per individuare in un certo senso e rappresentare un potere concentrato. Ecco, questa dialettica ha gradualmente determinato un rapporto tra natura e architettura in cui il risultato è talmente appagante che in qualche caso la modernità si è fatta paladina della sua rigorosa conservazione. Perché in fondo dobbiamo tener conto che tra le grandi conquiste della modernità c'è anche quella del saper valutare le qualità artistiche le qualità estetiche di cose lasciate in eredità dal passato. Quello che è certo è che noi non siamo più in grado di alimentare questa straordinaria ricchezza del paesaggio perché se voi girate per il Veneto vedete che la testimonianza del nostro tempo sono i capannoni industriali sono i supermercati sono questi elementi che diventano ostacolo alla lettura del paesaggio le strade hanno cambiato completamente significato nel momento in cui ogni tanto nascono queste barriere che impediscono di valutare questa straordinaria visibilità che in fondo è la qualità straordinaria del paesaggio cioè vedere insieme tante cose vicine e lontane e coglierne l'armonia coglierne quelle caratteristiche che fanno parte della bellezza classica così straordinariamente evocata dal professore associando diciamo alla bellezza evocata la bellezza del discorso perché una delle grandi qualità dei filosofi è quella di far fluire le parole secondo un'armonia un legame profondo tra loro che poi è quello del pensiero ecco quindi io credo che oggi noi siamo ad un punto di svolta e la crisi economica ci fa capire quanto sia importante che questa svolta avvenga perché non possiamo continuare a vivere così all'insegna del consumismo sprecando moltissime risorse distruggendo continuamente diciamo le testimonianze umane sul territorio e soprattutto creando rifiuti in misura tale che i rifiuti improvvisamente sono diventati uno dei massimi problemi del nostro paese vi rendete conto e perché ci sono tutti questi rifiuti perché la nostra società distrugge tutto ciò che non considera immediatamente utilizzabile anzi noi sappiamo che l'industria produttiva che un tempo cercava di produrre cose che duravano si comprava una cosa perché appunto si sapeva che durava quasi per tutta una vita oggi invece si studiano in ogni modo di fare delle cose che durino pochissimo perché altrimenti il mercato si ferma questo mercato che era l'immagine più straordinaria dell'incontro tra le persone e della solidarietà tra le persone il mercato tradizionale è il luogo di incontro più tipico degli uomini il mercato è diventata una sorta di forza sovrumana così come la tecnologia la quale non è più ai nostri ordini è la tecnologia che ci ordina di consumare che ci ordina di fruire di tante cose che poi alla fin dei conti sono in gran parte inutili certo negli ultimi tempi la tecnologia ha creato delle conquiste straordinarie pensiamo ad internet per esempio che costituisce sicuramente una possibilità che nessuna società in passato ha avuto e che ha già dimostrato in molti casi la sua importanza e la sua ricchezza ecco il grande problema da affrontare è come approfittare di questa crisi per creare una società diversa che senza rinunciare ai grandi vantaggi della tecnologia ma in un certo senso moderandone la prepotenza riesca a ritrovare un equilibrio e quindi qui riesce fuori il discorso della bellezza come equilibrio come congruenza delle parti e delle parti col tutto è difficile distruggere questa idea ci si è provato in mille modi ma continuamente riemerge riemerge nella vita normale di ciascuno di noi nella vita familiare nella vita dei gruppi questo fatto che appunto la prepotenza non paga ecco la bellezza può provocare le cose più negative ce l'ha fatto capire che era Mazzoff la bellezza è alla base dello stupro è alla base del furto si ruba una cosa perché è bella molto spesso ci sono alcuni che ordinano a dei sicari di rubare delle opere d'arte perché gli piacciono quindi qui siamo di fronte a un godimento della bellezza che provoca sopraffazione ecco ma esiste sicuramente una bellezza invece che ci invita alla moderazione ci invita appunto a combattere questa malattia della nostra società che è il consumismo che è il fatto di assorbire risorse in una misura assolutamente sproporzionata rispetto al numero delle persone che noi sappiamo per esempio che gli Stati Uniti consumano diciamo un 60% delle risorse di cui dispone il globo mentre diciamo tutto il resto del globo è in un certo senso condizionato dal fatto della presenza di questo paese che certamente è un paese illuminante un paese guida un paese in cui la libertà in certa misura si è radicata ma che continua a esercitare nel mondo una funzione che è all'opposto della bellezza cioè la bellezza come congruenza delle parti richiede che a ciascuno sia dato in misura ragionevole ora se voi pensate all'Africa al numero di persone che muoiono ogni giorno per mancanza di acqua o di sostentamento vi rendete conto che questo equilibrio nella terra non c'è e nessuno in fondo si propone di crearlo se non alcune organizzazioni che però sono talmente poco efficaci che ormai da anni cercano di riempire questo bicchiere e non ci riescono quindi bisogna cambiare in questo senso la modernità ci insegna che bisogna essere coraggiosi e però quella parte della modernità che ha conservato un rapporto con la tradizione e che ha capito anche gli aspetti negativi io ricordo sempre che le Corbusier dopo la guerra ha costruito la Maison Jaoule in cui a un certo punto una casa con delle volte di mattoni tradizionali in cui c'è un punto in cui sporge un elemento di cemento armato e rimane fuori un buco e diciamo questo buco serviva per ospitare i colombi ecco è impossibile pensare che nella villa Savoy ci fosse un posto per i colombi la guerra ha fatto questo miracolo il creatore intellettualistico diciamo di questa modernità assoluta ha capito che bisognava riportare nella casa il calore dello stare insieme del vivere insieme e quindi la casa non poteva essere solo un gelido manifesto di una vita totalmente rinnovata doveva essere anche l'espressione di quella continuità delle forme della vita che è inevitabile nel mondo in cui viviamo quindi la speranza c'è la speranza ci è data anche dalla modernità senza la quale forse appunto saremo costretti a fermarci a Paolina Borghese mentre sicuramente vogliamo andare avanti però se vogliamo andare avanti bisogna prendere la modernità esaminarla al microscopio e gettare via cioè bisogna avere il coraggio che hanno avuto i primi moderni gettare via ciò che non serve a costruire un mondo accettabile un mondo che approfitti di questa crisi per riorganizzarsi in termini meno dispersivi meno negativi meno lontani da un'idea di umanità che bene o male noi ancora possediamo ma non so voi io sono sempre più sorpreso di sentire questi signori che uno pensa ripiegati un po' nella loro disciplina invece avere questa visione così così grande così complessiva così olistica ma so del lavoro del mestiere di quello che fanno questa visione dell'umanità di un'unità Grazie.